Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi fa piacere sostenermi in maniera continuativa iscrivendovi al mio canale ricordatevi nel momento dell'iscrizione, da questo lato appare la campanellina, di attivarla alla voce tutte. In questo modo man mano che io metto i miei video online vi dovrebbe arrivare puntualmente la notifica. Allora, questo video è sicuramente fuori tempo massimo, però io ho ancora sicuramente un piede nel Natale. Forse un mignolino nella ricorrenza di San Valentino, anche se effettivamente per me la fine del mese di gennaio, poi il 14 febbraio è San Valentino e quindi ci c'è il mio compleanno. Quindi insomma, diciamo, mi aspettano giornate future con ricorrenze liete. Ho ancora assolutamente un piede nel Natale. E insomma, quindi apprezzo ancora di più, sono ancora più contenta di poter fare. Pian pianino poi passerò alla modalità ASMR che ricalca il Soft Spoken. Ringrazio Sabrina del canale Sabrina Marchetti ASMR. Poi giù in info box io vi lascio anche il link al suo canale, in modo che se ancora non conoscete Sabrina, avete anche la possibilità di iscrivervi al suo canale. Allora, ecco qui insomma le domande di questo tag ASMR squisitamente natalizio. E ora cominciamo. Ti piace il Natale? Sì, no, perché? Assolutamente sì. Allora, a me piace il Natale, piace la Pasqua, piace Halloween, piace San Valentino. Diciamo che a me tutte le ricorrenze piacciono. Non in maniera esagerata. Mi lasciano anche spesso uno strascio di nostalgia, comunque sì, assolutamente il Natale. Poi col fatto che è un periodo più dilatato, ha assolutamente un fascino tutto suo, poi io probabilmente arriverà la risposta in una delle prossime domande, quindi non anticipo nulla subito. Allora, domanda numero due, Tim Panettone o Tim Pantoro? Allora, è nota un pochino dolente, perché io devo assolutamente prestare molta, molta, molta attenzione nel consumare dolci, proprio perché la genetica della mia storia familiare registra, insomma, più casi di diabete. Diabete che poi, per carità, non è venuto con il passare degli anni, però io già ho la positività al metabolismo degli zuccheri e quindi devo fare molta, molta, molta attenzione agli zuccheri, in ogni caso, dolci, piacciono, e mi piacciono anche molto. Se si tratta di, del classico panettone con i cantiti in venta, io sono assolutamente Tim Pantoro. Però, ho assaggiato quest'anno un pezzettino piccolo, 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 di un panettone con una crema di castagne e l'ho trovato veramente, veramente delizioso. E siamo alla domanda numero 3. Hai fatto l'albero, il preseme? Allora, casa mia non è immensa e poi è piena di cose, perché io ho porto l'aria più di oggetti, di appunti, di libri, di riviste, di chi più ne ha, più ne metta, ho fatto un piccolo, preseme, che è un preseme che io, sin da quando ero bambina, avrei voluto un alberello, di quelli piccoli, carino, da poter mettere su una scrivania, ma fatalità, questo 2021, come poi precedentemente nel 2020, quando io mi sono decisa ad andare a comprare l'alberello da Tiger, erano tutti finiti, io poi sono no, perché io sia particolarmente cattolica, ma per il fatto che mi chiamo Francesca e il primo preseme è stato fatto, per chi, insomma, ancora non lo dovesse sapere, da San Francesco, da Sisi, io sono da sempre molto affascinata dal preseme e quindi posso, tra virgolette, simile, poi per carità, mio amoroso ha fatto l'albero a casa sua e i miei genitori hanno fatto l'albero a casa goro, quindi posso anche non fare l'albero a casa mia, ma sono assolutamente, la fa, cioè, molto legata al preseme, quindi non posso assolutamente rinunciarci, mi piace molto anche andare a vedere proprio le rappresentazioni dei presemi, alle varie rassegne o nelle varie chiese, fatemi sapere se anche a voi piace andare a vedere i presemi e se quest'anno ne avete visto uno più di particolari, insomma, se vi fa piacere condividere questa emozione e siamo arrivati alla domanda numero quattro, è il momento di trigger con l'oggetto natalizio, allora io scelto questa pull de neige che ho da più di, almeno da 30 anni perché mi è stata regalata dalla mia maestra delle elementari, spero di riuscire, spero che si sia adattito questo suono piacevole dell'acqua all'interno della pull de neige, mi fa piacere, probabilmente, anche se già l'ho mostrato in altri video, mostrarti anche questo oggetto natalizio che non ricordo se effettivamente è un cammello, un trombetario, ma mi piace molto perché se riesco a farlo, magari, eccolo qua, come vedete, si può aprire e richiudere, vediamo se riesco anche a farlo sentire, mi piace molto l'idea, anche se poi, magari, non nello scrigno del cammello, non ci sta nemmeno un figlio, quasi, mentre un figlio, fino con i sogni, i desideri per l'anno nuovo. E siamo arrivati alla domanda numero 5. Hai una playlist preferita che ascolti nel periodo natalizio? Sì, ci sono delle canzoni che amo ascoltare durante il periodo natalizio, che poi posso iniziare ad ascoltare anche già dalla fine del mese di novembre, come sto ascoltando tutt'ora, insomma, adesso, che è effettivamente stata esattamente una settimana, nata al giorno dell'Ebifania, e poi i classici di Natale, quindi Feliz Navidad di Michael Bublé, Christmas is coming to town, che mi piace molto cantato da Laura Ponsini, alcune canzoni natalizie di Irene Grandi, poi, magari, sì, adesso non ricordo neanche perfettamente i titoli, comunque, Chicle Bells, diciamo, mi piace anche molto White Christmas, Last Christmas di Juanma, se non ricordo male, smaggiamo un pochino le classiche canzoni di Natale, che un pochino smaggiamo tutti e tutte, almeno una volta, abbiamo sentito. Siamo arrivati alla domanda numero 6. Hai un film preferito che guardi nel periodo natalizio? Allora, anche se quest'anno non sono riuscita a guardare film tipicamente natalizi, secondo me, due film classici per il periodo del Natale, sono il primo di Mamma, Ho perso l'aereo, e anche Piccole donne, sia, adesso non mi ricordo tutti i nomi di attori ed attrici, però, un'edizione molto, molto veglia, con Liz Taylor nel ruolo di Amy, e un'altra, che deve essere invece degli anni 90, con Susan Sarandon nel ruolo di Mamma Marge, della mamma, insomma, ecco, non ho dimenticato di dire il titolo del film, ed è Piccole donne, immagino che, insomma, un po' tutti e un po' tutte conosciate questo film, qualche anno fa, e probabilmente ne ho parlato anche in qualche altro video, ne è stata riproposta una nuova versione a cinema, domanda numero sette, racconta, se vuoi, il Natale più bello che hai vissuto, allora, non ne ho uno in particolare, però, di qui, sicuramente darò una risposta anche abbastanza banale, e i Natali da bambina, quindi, insomma, nel periodo, dai, diciamo, il periodo della scuola elementare, ecco, avevano sicuramente, ma non solo la giornata di Natale, un po' tutto il periodo che si libanava delle feste natalizie, sia un sapore particolare, però, sì, anche adesso, per me, il Natale mantiene, e comunque intatta, una sua magia, una sensazione di stupore, e una sensazione di meraviglia, e siamo arrivati alla domanda numero otto, come hai passato il Natale scorso? Beh, se ci si riferisce alla giornata del 25 dicembre, in questo caso, quindi, il 25 dicembre 2021, 2021, con la mia famiglia, e quindi, la casa dei miei genitori, qui a Treviso, sempre nella mia città, a fare il classico pranzo, quindi, io, i miei genitori, mia sorella, io ho una sorella, come ho detto, forse anche in altri video, che ha quasi 12 anni meno, rispetto a me, e la mia nonna materna, che quest'anno, a luglio, ha compiuto la bellezza di 93 anni. Poi, siamo arrivati alla domanda numero nove, ti piace la neve? Allora, in generale, sì, però, consideratevi, la mia città, Treviso, è circa a 15 metri sopra il livello del mare, quindi, non è sicuramente una città, attrezzata, per, i momenti, in cui potrebbe nevicare, quindi, sì, mi piace la neve, e mi piace il paesaggio, il nevato, ma, in montagna, cioè, in tutti quei, centri, qui, quelle località, quelle cittadine, che sono, comunque, attrezzate, per, l'arrivo, della neve, e, secondo me, in una città, come la mia, qui, devo essere, comunque, anche molto realistica, molto pratica, la neve, più, che creare, incanto, in poesia, potrebbe, arrecare, dei, disagi, e siamo arrivati, alla domanda, numero, dieci, è, cosa, hai chiesto, a babbo, natale, quest'anno, allora, e, qui, magari, insomma, è un argomento, che, suscita polemiche, io, nel video, precedente a questo, ho, espresso, liberamente, la mia, corrente di pensiero, i regali, più, importanti, e, adesso, non, non, dico, non, riesprimerò, chiaramente, il mio pensiero, ma, ha visto, almeno, il mio video, precedente, capirà molto bene, a cosa, mi sto, riferendo, i regali, più importanti, del, duemila, e, duemila, e, sono arrivati, a giugno, a, luglio, e a, dicembre, allora, e siamo, alla domanda, dieci, più, no, e, quindi, alla domanda, numero, dieci, si è piaciuto, fare, questo, tag, assolutamente, si, mi è piaciuto, moltissimo, anche, perché, ho ancora, almeno, piede, la pienezza, nella, magia, insomma, nonostante, il periodo, pandemia, dell'atmosfera, natalizia, avendo, fatto, tra virgolette, fuori, a tempo massimo, me lo sono, costato, ancora, di più, io ringrazio, nuovamente, Sabrina, del canale, Sabrina, Marchetti, ASMR, per, aver, dato, anche a me, la possibilità, di riproporre, di questo tag, le dando, un grande, bacio, grazie, a tutti, e a tutte, voi, fatemi, un pochino, sapere, se, anche voi, come me, avete, ancora, almeno, un, piede, in quella, che è, la magia, lo stupore, quello che, l'ingarie, dell'atmosfera, natalizia, ciao a tutti, ciao a tutti, ci vediamo, nel prossimo, video, ciao, 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 ciao,